Abbiamo pensato di strutturare questo corso, il design delle parole, che ha come obiettivo quello di fornire degli strumenti per tutte le persone che vogliono cementarsi nella materia della composizione grafica, editoriale, l'utilizzo e anche la combinazione di fonti diversi, fino ad arrivare a elementi grafici più specifici come l'uso dell'immagine, l'uso del colore, per appunto prendere dimestichezza con questo linguaggio visuale a supporto di quello proprio testuale. Io sono Riccardo Bianchi e sono il docente che vi seguirà nel corso delle cinque lezioni Il design delle parole.